Salve a tutti, sono il dottor Filippo della farmacia Longo e oggi parliamo di blefarite. La blefarite è un'infiammazione che colpisce i bordi delle palpebre e generalmente può manifestarsi su entrambi gli occhi, anche se con diversa intensità. Esistono tre tipologie di blefarite. Abbiamo quella anteriore dove i batteri implicati colpiscono la base delle ciglia e provocano l'infiammazione. Poi abbiamo quella posteriore che colpisce le ghiandole di meibomio che generalmente sono utili per la produzione delle lacrime e che risultano così ostruite. Abbiamo quella anteriore dove i batteri implicati colpiscono la base delle ciglia e provocano l'infiammazione. Abbiamo poi quella posteriore che colpisce le ghiandole di meibomio utili per la produzione delle lacrime e che risultano così ostruite. E infine quella mista che è data dalla combinazione di entrambe le tipologie di blefarite. Al contrario della congiuntivite la blefarite non è contagiosa e non va confusa con orzaiolo o calazio, in quanto non trattasi di un'infezione. Possiamo soffrire di diversi rimedi per il trattamento di questa condizione un po' sgradevole tramite l'utilizzo di gocce antibiotiche, generalmente prescritte dall'oculista, lacrime artificiali con un'azione idratante, omettante e disinfettante, oppure tramite l'ausilio di salviette e detergenti con un'azione anche disinfettante, utile a mantenere l'area oculare e perioculare correttamente detersa e priva di residui caratteristici della patologia. Per maggiori informazioni potete venire direttamente in farmacia a Roma oppure cliccare il sito www.easypharma.it. Un saluto a tutti!